I bastioni sono andati verso via Vittorio Veneto, verso l'esterno della città. Hanno provato a fare altri due locali, oltre questo, dove poi nel terzo sono stati presi. Notte di scorribande dei ladri ad Arezzo, a finire nella mirino dei malviventi e ancora una volta bar e ristoranti. Tutto è partito poco prima del luna da un bar in pieno centro storico nella zona dei bastioni. Qui i ladri si sono accaniti contro la vetrata, tra l'altro ferendosi. Hanno utilizzato uno di questi lastroni, che si vede già che manca, e poi tutti i resti li abbiamo trovati davanti alla porta d'ingresso. La vetrata fortunatamente però ha retto e la banda ha così tentato di entrare passando dal museo di Porta Santo Spirito. Sando ci fosse un passaggio fossero collegati, però non erano collegati, quindi visto che non sono riusciti a fare il bottino da noi, sicuramente hanno pensato di andare a farlo da altre parti. I banditi si sono così spostati verso il quartiere di Saione, due i tentativi di furto in altrettanti bar della zona, fortunatamente andati a vuoto. Così nel mirino della banda è finito il ristorante di Via Guelfa. In questo caso sono riusciti a sfondare la vetrata. Hanno trovato un tombino, quindi si hanno rotto con quello, hanno spaccato il vetro. Una volta dentro hanno messo a soquadro il locale, facendo razzia di tutto quanto trovato a disposizione. Le attrezzature che avevano rubato, poi le abbiamo ritrovate. Alcuni vetri rotti del locale, degli smartphone con il vetro rotto, registratore di cassa tutto spaccato. Fortunatamente non c'erano tanti soldi, un fondo cassa. La folle notte dei ladri però qui si è conclusa grazie al sistema di videosorveglianza, fondamentale anche la testimonianza di un vicino. Abitando nel palazzo qua accanto, insomma, il momento in cui loro poi sono andati a buttare via l'aria furtiva, ho visto il momento in cui uscivano e buttavano delle robe nel cestino. Favano addirittura un machete, insomma, erano messi abbastanza, insomma, era una gente abbastanza pericolosa, ma poi dopo 20 secondi in realtà è arrivata la polizia. Sono così scattati gli arresti, in manette sono finiti tre giovani magrebini, tutti con precedenti specifici. Era qualcosa che sentivamo già, perché sono già successi altri tentativi di furto o di furti, oppure danneggiamenti presso altri locali qua nella zona. Infatti, normalmente abbiamo delle panche fuori, le avevo fatte rimettere tutte dentro perché avevo il presentimento che qualcosa dovesse accadere. È accaduto, speriamo che siano questi tre e che finiscano qua.